Questa sembrava un'uscita come tante altre, ma questa volta sono riuscito a mettere tutti gli ingredienti giusti per far scatenare una crisi creativa. E si inizia Malga Prompera. Vediamo se ce la facciamo. E tutto inizia da questa escursione in un percorso di circa 8 km, non difficile ma comunque faticoso, con i suoi 750 metri di dislivello, in una zona sperduta e poco frequentata in questo periodo. Le crisi creative, ed è una cosa che impari con il tempo, con l'esperienza, sono cicliche e sono solitamente causate da una serie di scarsi risultati che vai ad ottenere, a loro volta generati da errori di valutazione che noi andiamo a fare. E bisogna quindi capire come riconoscerle e capire come evitare di alimentarle. Allo stesso tempo però non bisogna vivere con il terrore nel sapere che prima o dopo e più volte dovremo affrontare questa esperienza. Dopo circa metà strada percorsa, dal percorso di 8 km, ho fatto 4 km circa, pendenza a 700 metri di dislivello sugli 8 km, quindi non tantissima, anche se ci sono dei punti un po' più ripidi di altri. Però qui, a 4 km di distanza, cosa mi trovo? Sbam! Veramente un bel panorama. Molto molto carino. Il primo ingrediente sbagliato di questa escursione è stata l'eccessiva pianificazione. Avevo studiato tutto, guardato foto da archivio, fatte da altri fotografi in questo luogo, avevo anche visto un video di una coppia di trekker che l'aveva fatta qualche settimana prima di me, quindi mi sentivo sicuro di avere tutto sotto controllo. Ero arrivato al punto di avere anche un'idea piuttosto chiara del tipo di paesaggio che avrei trovato e delle foto che avrei potuto fare. Adesso devo affrontare l'ultimo strappo, l'ultima salita che dovrebbe portarmi più o meno sulla quota della malga, dopo dovrei camminare piuttosto in piano, con poco dislivello. Quindi non farò filmati adesso perché sarà un po' tosta. E ci vediamo direttamente alla fine. Ed eccoci in quota. Questa è stata dura ma se abbiamo fatto un po' di neve l'ho trovata, però adesso inizia la parte un po' più pianeggiante. Questa è una sezione di tronco di un albero radicato dal Vaya e hanno fatto il conteggio degli anni. e vedi Vaya lì in alto, 2018. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, vaiont, alluvione. Quest'albero l'avevo viste tutte e si è fatto distruggere dal cambiamento climatico. C'è l'ho fatta, sono arrivato, uff, di aria, sul posto che volevo raggiungere. In fondo c'è la malga, Pramper, adesso vediamo se la neve non mi blocca proprio gli ultimi metri. Il sole dovrebbe baciarmi per un paio d'ore. Tutta questa sicurezza mi ha portato a fare il secondo errore, uscire con un mezzo che non conoscevo ancora bene. Ho voluto infatti portarmi dietro la Panasonic S5 Mark II con una serie di obiettivi grandangolari che mi ha prestato Panasonic per testare tutto il sistema. Sono nuovamente operativo, ho fatto un po' di ristoro. Ho qui la Panasonic S5 Mark II con i 14-28 e adesso farò un po' di foto in questa location per poi tornare indietro visto che ho i miei 8 km di strada da fare. Se questa Panasonic ti incuriosisce iscriviti al canale perché te ne parlerò in un video prossimamente. Da qui ho praticamente la visione a 360 gradi. Lì è stupendo, c'è l'antelao, credo sì, l'antelao, lì c'è il sorapis. Però già questa non è propriamente la situazione ideale. Mi interessa più che altro provare questa fotocamera e questa lente come si comporta. Quindi vado a fare le prime foto. Fin dei primi scatti con la Panasonic però mi sono reso conto che qualcosa non andava. Non mi piaceva quello che stavo facendo. Come sai da un po' di tempo mi piace utilizzare delle focali più lunghe come il 70-200 e qui ero con un 14-28, tra l'altro un obiettivo che non conoscevo. E provare qualcosa di nuovo non è sbagliato. Tuttavia in queste condizioni sommato a tutti gli altri fattori beh qualcosa ha cominciato ad andare storto. Meno male che ho messo il berretto, la sciarpa perché caspita un vento forte e freddo. E davano un fastidio immenso. Adesso qui ho già fatto delle foto. torno un po' più giù così sarò anche un po' più riparato. Magari vedo di catturare meglio questo complesso qui che è molto molto interessante. Di questo contesto mi piace la montagna. Dopo ti dirò che montagna si tratta. Con questa zona in primo piano. Rocce, neve. Quello a 14 mm mi sembra un po' troppo distante però con i 14 mm è migliore il primo piano secondo me. Ma lo vedrò meglio a casa guardandola a monitor. Volendo c'è anche la possibilità di continuare, andare su per di là. Ma direi che non è proprio il caso. Quando ho iniziato questa escursione avevo fatto una scelta. Quella di fare tutta l'andata senza fare foto. Quindi camminata precisa per raggiungere nell'arco delle due ore il posto. Per poi nel ritorno fotografare gli elementi che mi si presentavano davanti. Anche perché il sole ce l'avevo avuto alle spalle che illuminava la montagna, i monti, tutto il panorama che avevo di fronte. E sembrerebbe che questa scelta, questa strategia stia ripagando. Perché mi trovo per l'appunto delle situazioni molto più belle rispetto a quelle che ho con il sole che è praticamente in contro luce. E adesso vediamo quali sono i risultati. Sorrido nel rivedere questo spezzone di video perché ero consapevole che i risultati non stavano venendo fuori. Eppure ero ancora convinto che la strategia fosse quella giusta. Eppure da qui in avanti poi è crollato tutto, ho perso totalmente l'ispirazione, non ho più fatto nessuna foto. Non vedevo nulla di interessante, nonostante di cose interessanti, qui ce ne erano molte. Ero in uno stallo proprio creativo al massimo, avevo solo voglia di tornare a casa. Ma come si può uscire da questo stallo? Ci sono vari metodi che si possono adottare, ma sicuramente non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Non serve però adottare soluzioni drastiche come non fotografare per un mese. Io ho continuato a fare quello che mi piace, uscire nella natura, ma in questa nuova uscita il mio approccio è stato totalmente differente. Ho prima di tutto deciso di affrontare un percorso che non conoscevo se non nel percorso da fare in sé. Buongiorno! Poi ho deciso di usare la mia macchina zen, ovvero la Fuji X4, e qui ti ho già parlato molto bene in un altro video mesi fa. Wow! In questa configurazione non mi sentivo sotto pressione dall'esigenza di fare delle foto o tirarci fuori un video, ma dovevo solo guardarmi attorno e se vedevo qualcosa di interessante fotografarlo. Adesso io e Flavio ci stiamo godendo l'ultimo pezzettino in piano e dopo di che ci aspetterà la bella salitona che comincia qui e che ci porta in quota. Monte Punta, se ce la facciamo avremo l'ombelico di Zoldo che ci permette di vedere tutto quello che abbiamo attorno a 360. Adesso vi saluto, non so se farò riprese durante la salita e ci vediamo su. Alla fine non siamo riusciti a raggiungere la meta, ma non è questo quello che conta. Quello che conta è il fatto che ho fatto foto, sono arrivate e soprattutto mi è piaciuto fare fotografia ed è questo quello che conta. Alla fine dobbiamo rinunciare la salita perché è tutta una lastra di ghiaccio, non è neve, è lastra di ghiaccio. Quindi è troppo difficile, sia quei scarponi sia quei lamponcini, servirebbero dei lamponi. Perché normalmente eravamo arrivati ma troppo rischioso e dopo sta venendo su del nuvolo. Il pelmo già comincia a essere un po' coperto quindi sarà per un'altra volta come giro. E anche se alla fine poi non siamo riusciti a raggiungere la meta, quello che conta è che ho ritrovato la serenità, l'equilibrio, la voglia di raccontarvi nuove avventure fotografiche con molta meno pianificazione e più libertà. A proposito, se il video ti è piaciuto e vuoi vedere la mia prossima uscita fotografica, iscriviti al canale e metti un like al video. E noi ci vediamo al prossimo episodio. E noi ci vediamo al prossimo episodio.